Il conto alla rovescia è partito, gli allenamenti collettivi sono iniziati da più di una settimana e il Pescara non vede l'ora di scendere in campo. L'obiettivo biancazzurro è centrare il prima possibile l'obiettivo salvezza per poi provare ad inserirsi nel discorso play-off ed è per questo motivo che i calciatori reputano le dieci gare restanti sino a fine regular season come dieci finali. Per l'ultima parte di campionato però, il Pescara dovrà fare ancora meno di Marco Tuminello il cui Calvario non è finito e la sua stagione si è chiusa anzitempo. Il giocatore infatti, uscito dolorante dalla seduta di allenamento di qualche giorno fa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Il giocatore sarà monitorato dallo staff medico e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti tra 30 giorni per poi, nella migliore delle ipotesi, ricominciare gradualmente il suo periodo di recupero agonistico. Per il bomber di proprietà dell'Atalanta e con presenze nell'Under 21 si tratta di un nuovo problema fisico che segue quasi otto mesi di stop dopo l'infortunio riportato nel settembre scorso in occasione della gara di campionato Cosenza-Pescara quando l'attaccante di origine siciliana riportò la rottura del crociato con conseguente operazione chirurgica e la lunga riabilitazione. Proprio in quella partita aveva sigrato il quarto gol in maglia biancazzurra nelle cinque gare ufficiali disputate tra campionato e Coppa Italia. Non resteranno le sole perché il giocatore, secondo accordi tra Atalanta e Pescara che saranno ratificati a breve, resterà ancora un anno in Abruzzo e riannoderà quel filo interrotto così bruscamente con il gol. Il Pescara scalda i motori in vista della ripresa del campionato che ci sarà il 20 giugno tra le muramiche dell'Adriatico contro la Juve Stabia ma intanto sembrano imminenti delle novità proprio sul principale impianto cittadino. Il restyling dello stadio Adriatico, infatti, questa volta si può fare dopo numerosi tentativi andati a vuoto negli scorsi anni. Ieri mattina il sindaco Carlo Masci ha incontrato all'interno dell'impianto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e c'erano anche i responsabili della soprintendenza guidati dall'architetto Aldo Pezzi. Il sopralluogo, necessario per mettere a punto la macchina organizzativa per le gare ufficiali, secondo le prescrizioni sanitarie del protocollo varato dalla FIGC, è stato anche l'occasione per tornare a parlare di un progetto accantonato da qualche tempo ma che sta per tornare di stretta attualità. Si riapre, infatti, la possibilità di intervenire sullo stadio per lavori di riqualificazione e trasformazione partendo dal rispetto della sua storia e delle sue peculiarità architettoniche come le famose colonne di Piccinato che sorreggono la tribuna Maiella e che inizialmente avevano bloccato l'iter dando spazio ad un nuovo progetto quello di uno stadio ex novo esclusivamente dedicato al calcio con l'adriatico ed una nuova struttura in città destinati all'atletica. L'idea, presentata a fine 2018, si è bruscamente arrestata e ora torna quindi di moda l'idea di una trasformazione dell'adriatico rispettando i vincoli architettonici che rendono lo stadio pescarese di interesse storico-culturale. La strada è ancora lunga ma ogni cammino inizia con il primo passo e quello compiuto ieri può rappresentare per Pescara intesa come città ma anche come squadra di calcio un nuovo inizio. Grazie a tutti.